La gestione del tempo su Cleos è basata su eventi di calendario e scadenze. Gli appuntamenti sono solo un tipo di eventi di calendario. Gli eventi di calendario si verificano in una data e ad un orario specifici. Quando si definisce un evento di calendario in Cleos, si prenota un intervallo di tempo per un'attività specifica. Per esempio, gli appuntamenti con un cliente o un'udienza in aula sono gestiti in Cleos come eventi di calendario. Una scadenza in Cleos è un lavoro specifico che deve essere svolto da qualcuno entro una certa data. Gli eventi di calendario e le scadenze hanno alcune caratteristiche in comune. Entrambi, infatti, possono essere usati per generare timesheet. I timesheet sono molto importanti su Cleos perché registrano le prestazioni fatturabili e possono essere utilizzate per generare fatture. Passando con il mouse su un elemento è possibile visualizzarne i dettagli. Cliccando su di esso ne verranno visualizzati i dettagli sul pannello di destra. È possibile modificare gli orari dell'evento estendendolo. Spostando la casella cambierà anche l'orario dell'appuntamento. È possibile modificare l'evento facendo doppio clic su di esso o dai tasti Modifica nella schermata generale e da tasto destro. Una volta aperto l'evento in Modifica, è possibile salvarlo, rinviarlo o annullare le modifiche. In alto è possibile modificare la vista dell'agenda. Giorno, settimana lavorativa, settimana, mese o agenda legale. È possibile saltare a una data precisa, andare a un periodo precedente o successivo. Cliccando su oggi, si salta alla giornata odierna. È possibile visualizzare i calendari dei gruppi o di altri colleghi di studio. Attiva o disattiva la barra per selezionare più agende. È possibile anche unire le agende selezionate in un'unica vista. Adempimenti e scadenze appariranno in basso. Per creare un nuovo evento, cliccare sull'icona Nuovo. Il titolare, il tipo di evento e l'oggetto sono obbligatori. Si raccomanda di assegnare l'evento a una pratica specifica, seppur non sia obbligatorio farlo, in modo da averne visibilità anche all'interno della stessa. Se necessario, è possibile aggiungere una descrizione aggiuntiva. Selezionando Date e ora, lo slot viene visualizzato nel pannello di destra. È possibile aggiungere altri partecipanti, colleghi dello studio o altri. Nel caso siano membri di studio, l'evento sarà mostrato anche nella loro agenda personale. Se si verifica un conflitto, l'appuntamento appare in rosso. È possibile facilmente modificare, adeguare e estendere utilizzando il trascino e rilascia della sezione Scheduler. Se non c'è conflitto, l'elemento appare in verde. I campi facoltativi sono disponibili di seguito. Selezionando Privato, questo inserimento verrà mostrato come uno slot occupato e i dettagli saranno visibili solo ai partecipanti. Al termine, fare clic su Crea. In alternativa, cliccando sulla freccia accanto al tasso Crea, si ha la possibilità di definire i passaggi successivi relativi all'evento. Un adempimento è una data entro la quale un certo lavoro deve essere completato. Una volta inserito, è possibile consultarlo dal modulo Agenda, nella sezione Adempimenti e scadenze, nel modulo Adempimenti e scadenze, o nel widget in Homepage Adempimenti. Ancora, nella scheda Adempimenti e scadenze della pratica di riferimento se collegata. Da queste sezioni, è possibile creare adempimenti o scadenze. Inoltre, nello specifico, quando si crea una scadenza, vengono generati anche gli adempimenti concatenati secondo i criteri impostati in fase di configurazione del tipo di scadenza principale. Nella vista principale del modulo Adempimenti e scadenze, è possibile cercare la voce interessata per oggetto, descrizione o luogo, tramite la barra di ricerca. In alto al centro, è possibile filtrare le voci per visualizzare i soli adempimenti o le sole scadenze. In alto a destra, invece, è possibile filtrare per visualizzare le sole voci ancora da adempiere o le sole adempiute. O ancora, selezionare il range temporale entro il quale cercare. Dal tasto Nuovo, è possibile creare un nuovo adempimento o una nuova scadenza. In fase di creazione di un adempimento, il titolare, il tipo di adempimento e l'oggetto sono obbligatori. Si raccomanda di assegnare l'evento a una pratica specifica, seppur non sia obbligatorio farlo, in modo da averne visibilità anche all'interno della stessa. Se necessario, è possibile aggiungere una descrizione aggiuntiva. Selezionare la data. O in alternativa, è possibile calcolare l'ultimo giorno a partire da una data di riferimento cliccando sul tasto Calcola. È possibile impostare il numero di giorni, mesi o anni, prima o dopo una data di riferimento, tenendo conto di eventuali giorni liberi o sospensione feriale. Cliccando su Calcola, viene calcolato il giorno. Cliccare su Conferma per inserire la data calcolata nell'adempimento. In fase di creazione di una scadenza, invece, è possibile aggiungere degli adempimenti collegati. Giorni prima indica quanti giorni prima, dalla scadenza, l'adempimento andrebbe completato. Per il primo adempimento in elenco, il campo Giorni prima indica il numero di giorni che mancano alla scadenza. Per il resto degli adempimenti, indica il tempo a partire da quello precedente. Cleos propone una sequenza di adempimenti e date, che però possono essere modificate dall'utente. Si possono inoltre aggiungere nuovi adempimenti intermedi alla sequenza, rimuoverli o modificare le date proposte da Cleos. Le scadenze possono essere assegnate a qualsiasi membro o gruppo dello studio. Cleos non effettua una verifica di integrità sulle sequenze di scadenze. È possibile definire la data limite delle scadenze prima della data limite della sequenza di adempimenti successivi. Ciò permette di definire strutture di sequenze molto flessibili. In fase di creazione di un adempimento o di una scadenza, se è impostato un promemoria, verrà visualizzato nell'area di notifica. I campi facoltativi sono disponibili di seguito. Al termine, fare clic su Crea. Dalla freccia accanto al tasto Crea, si ha la possibilità di definire i passaggi successivi relativi all'evento. La scheda Agenda della pratica consente di consultare gli eventi della singola pratica in una vista per lista. Tutte le funzionalità sugli eventi, relativi alla creazione e alla modifica di questi, sono gli stessi disponibili dal modulo Generale Agenda. Stessa logica vale per la scheda Adempimenti e scadenze, in cui è possibile gestire e consultare le sole voci collegate alla pratica in lavorazione. È possibile rapidamente impostare come adempiuti gli adempimenti e le scadenze tramite l'apposito tasto e filtrare la vista con gli appositi filtri on top. La configurazione preimpostata di Cleo contiene un'ampia gamma di tipi di eventi d'agenda. È possibile definirne di nuovi oppure personalizzare quelli che già esistono. Nella scheda Agenda, in Configurazioni Studio, è possibile modificare o creare tipi di eventi. Nella sezione Tipi evento si ha visibilità dei tipi preimpostati. Dal tasto Nuovo è possibile creare un tipo di evento che può essere Appuntamento o Audienza. Per entrambe le categorie sarà possibile compilare nome della tipologia, cartella in cui categorizzarla. Sono presenti cartelle predefinite di Cleos. In alternativa, è possibile personalizzarle modificando quelle già esistenti o creandone di nuove, direttamente in questa fase cliccando su Imposta cartelle. È possibile selezionare un colore predefinito o crearne di nuovi cliccando su Imposta colori. Il tipo di timesheet, ossia il timesheet con il quale sarà creata l'attività a tempo a partire da questo evento. Se permetterne sincronizzazione con il calendario di Google o di Microsoft 365. Un luogo predefinito. È possibile inserire un dato fisso digitandolo manualmente. O in alternativa, selezionando Riempimento automatico, è possibile autocompilare un dato relativo al fascicolo a cui verrà collegato l'evento o ai soggetti in esso contenuti. Al termine, cliccare su Crea tipo di appuntamento. In corrispondenza delle tipologie già esistenti, cliccando sul menu richiamabile dai tre punti, è possibile compiere le seguenti operazioni. Modifica. Consente l'aggiornamento dell'evento selezionato. Converti in udienza. Permette di convertire la tipologia in udienza o in appuntamento. Disattiva. Consente di disattivare il tipo di evento selezionato. Non sarà più visibile nella lista dei tipi in fase di creazione di un evento. E' poi possibile riattivarlo in qualsiasi momento. Tramite filtri on top è possibile visualizzare le sole tipologie attive o, cliccando su Tutti, anche le disattive. Nella sezione Opzioni, è possibile scegliere la durata predefinita di un nuovo evento e la durata della giornata lavorativa. La configurazione preimpostata di CLEOS contiene un'ampia gamma di tipi di adempimenti e scadenze. E' possibile definirne di nuovi o personalizzare quelli che già esistono. Nella scheda Adempimenti e scadenze, in Configurazioni Studio, è possibile modificare tipi di adempimenti e scadenze. Nella sezione Tipi, si ha visibilità dei tipi preimpostati. Dal tasto Nuovo, è possibile creare un tipo di adempimento o un tipo di scadenza. Per entrambe le categorie, sarà possibile compilare nome della tipologia, cartella in cui categorizzarla. Sono presenti cartelle predefinite di CLEOS. In alternativa, è possibile personalizzarle modificando quelle già esistenti o creandone di nuove. Direttamente in questa fase, cliccando su Imposta cartelle. E' possibile impostare un colore predefinito selezionandolo tra quelli esistenti o crearne di nuovi cliccando su Imposta colori. Il tipo di timesheet, con il quale sarà creata l'attività a tempo, a partire da questo adempimento o scadenza. Se permetterne sincronizzazione con il calendario di Google o di Microsoft 365. Un luogo predefinito. E' possibile inserire un dato fisso digitandolo manualmente o in alternativa selezionando Riempimento automatico. Autocompilare un dato relativo al fascicolo a cui verrà collegato l'evento o ai soggetti in esso contenuti. Per i soli adempimenti, è possibile selezionare anche un promemoria, ossia il numero di giorni prima, entro i quali essere avvisati rispetto alla data di scadenza creata con questa tipologia. Le scadenze permettono di impostare la creazione di adempimenti automatica a partire dalla data che viene selezionata nella scadenza. E' quindi necessario creare prima le tipologie di adempimento da collegare e successivamente inserirle in fase di creazione della scadenza nella sezione Adempimenti collegati. Per ogni tipo di adempimento collegato, è possibile indicare il numero di giorni prima dalla data di scadenza Al termine, cliccare su Crea tipo scadenza. Per esempio, una scadenza con adempimenti collegati può essere questa. A partire dalla data di scadenza, memoria 183 numero 3, vengono generati automaticamente gli adempimenti memoria 183 numero 2, 30 giorni prima della numero 3 e memoria 183 numero 1, 50 giorni prima della numero 3. In corrispondenza delle tipologie già esistenti, cliccando sul menu richiamabile dai tre punti, è possibile compiere le seguenti operazioni. Modifica, che permette di aggiornare il tipo selezionato. Disattiva, che permette di disattivare il tipo selezionato. Non sarà più visibile nella lista dei tipi in fase di creazione della scadenza. È possibile poi riattivarlo in qualsiasi momento. Tramite filtri on top è possibile visualizzare le sole tipologie attive o cliccando su tutti anche le disattive.